Cari amici e cari amiche ben trovati a questo nuovo appuntamento di ricordi per passione a Marcord. La puntata di oggi è con un ospite importante, un dirigente del mondo che è il calcio che in quel settore ha lasciato un'impronta, un'impronta pesante. Benvenuto a Luciano Moggi. Buonasera, buongiorno, come volete? Va bene comunque. Allora intanto grazie per aver accettato il nostro invito e ripercorriamo un po' quella che è stata la sua carriera dagli inizi, da quando è partito dal suo paese, da Monticiano, in realtà Luciano Moggi all'inizio andava in bicicletta, giusto? Sì, c'era mio padre che era appassionato di ciclismo, tant'è che il mio terzo nome mi sembra che sia Alfredo, che vuol dire Binda, quindi mi voleva corrersi in bicicletta e in effetti ho fatto anche qualche corso, ma io ero più bravo in discesa e in pianura che in salita. Anche perché il suo territorio è abbastanza... Sì, in Toscana è abbastanza, sì, esatto, ci sono delle colline, ma a me non piaceva, mi piaceva più la velocità in discesa e in pianura e poi non avevo passione per la bicicletta, di modo che feci capire a mio padre che era a casa di smettere. Quindi ha preferito giocare a calcio? Sì, ma anche lì, siccome io sono uno che si giudica più se stesso che gli altri, ho capito che uno sviluppo di carriera, un grande sviluppo di carriera che ci poteva essere. Allora, a un certo punto, avendo giocato in quarta serie, praticamente, che è la Serie D attuale, e pensando che avrei dovuto mettere su una famiglia e con il calcio non mettevo su una famiglia, a quel punto lì ho deciso di smettere, perché io sono un decisionista, ho deciso di smettere e di fare un concorso in ferrovia, per garantirmi un posto, ho fatto il concorso per il capo di gestione in ferrovia, 90 posti con 10.000 persone, sono arrivato terzo, e questo mi ha già dato una garanzia per il futuro. Poi, siccome era andato a provare da ragazzino alla Juventus, è una storia che anche un suo compaesano vi disse, ma dove vai? No, quello era il mio cugino, quando gli dissi, dico, sai che mi ha scritto la Juventus, vuole che gli faccia l'osservatore, e il mio cugino mi disse, se la Juventus si confonde con te, effettivamente, ero in un paesetto piccolo, ci può pure stare una cosa del genere, che magari pensare che una grande società di immagini si possa confondere con un paesano, perché io tale ero, non è che... e invece sei confusa, sei confusa e magari anche troppo da portarmi a livelli massimi, praticamente, della categoria. Assolutamente. Allora, prima stava dicendo che fa questo concorso, quindi si trasferisce con sua moglie a Roma, e avevate preso una stanza, no, in affitto vicino alla stazione, è vero queste cose? Sì, avevamo preso una stanza vicino alla stazione, praticamente siamo stati lì in diverso tempo, facevamo cucina, camera, tutto, però era una vita che avevo, diciamo, accettato e sapevo a cosa andavo incontro, cioè, non una vita da signore, ma una vita, diciamo, passabile, in quei tempi lì soprattutto. E c'erano poi... iniziò la Juve, no? Devo dire che, no, no, devo dire che, avendo stabilito i rapporti con la Juventus e cordiali, con il segretario generale, dottor Amerio, dottor Amerio, mi richiesi, praticamente si poteva fare l'osservatore, e lui mi rispose che sì, potevo farlo. E a quel punto lì è nato Moggi Tannescaute, che non è andato, premetto, a scoprire i giocatori, come si dice in gergo, sono andato in giro a vedere se c'erano giocatori buoni, perché quelli buoni si scoprono da soli e non hanno bisogno di essere scoperti. E lì è venuto fuori Paolo Rossi, lì è venuto fuori Causio, lì è venuto fuori Scirea. Sì, ci racconta un po' questa storia di Causio, che lei ordinò all'allenatore di farlo uscire, perché altrimenti lo vedevano... No, allora Causio, Causio l'abbiamo provato a Rimini, con due squadre frapposte, che praticamente erano formate da giocatori in prova. Era una riunione che sollevo fare io, convogliando dei giocatori, praticamente vicini in zona per evitare le spese, tant'è che Causio giocava nella San Benedettese con Aliani allenatore. E praticamente fece questa prova, da questa prova è emerso sto ragazzino che faceva tutto con la palla, incredibile. E io ho detto al capo del settore giovanile, a Locatelli, mi ricordo, togliamo questo nel primo tempo, perché altrimenti si prendono gli altri. E si incavolò Causio, perché li dicono con Eliani, il suo allenatore, dicendo ma come mi hanno mandato un mese a Torino in prova, mi hanno scartato, adesso la Juventus mi toglie alla prima parte della partita. e io gli ho detto, stai tranquillo, tu adesso vieni a Juventus, se no preoccuparti. Ti ho tolto perché mi sembri bravo, oppure mi sbaglio? Ti ho detto, no, no, non si sbaglia, perfetto. Già quello mi incoraggiò perché avevo visto uno con personalità. Come in effetti poi si è dimostrato Causio. E devo dire che è stata una scoperta, perché non una scoperta mia, è stato un qualcosa che praticamente aveva lui da dimostrare a me, me l'ha dimostrato, per cui il problema poi se l'è creato durante l'attività sua. Certo. Paolo Rossi è stata un'altra scoperta, no? Perché lì ci credeva, in questo ragazzo, mentre c'era un po' di diffidenza, vero? No, io neppure lo conoscevo, solo che avevo suo fratello a Torino come giocatore. E non è che mi piacesse granché perché era strutturato male, era lento, eccetera, no? Però era lì da tanto tempo prima che arrivassi io, quindi nulla da eccepire. A un certo punto l'allora allenatore dell'Under 21, Italo Acconcia, mi disse guarda che la Cattolica Virtus in Firenze c'è il fratello di quello che è a Torino, molto meglio di quello. Io andavo a vederlo, mi entusiasmò. Mi entusiasmò praticamente, tant'è che telefonai subito a Torino, bisogna provare uno, questo giocatore, perché è il fratello di quello che sta a Torino, ma praticamente sembra di un'altra categoria. Mi domandarono l'età e mi disse, non si può provare perché facciamo una partita con tre anni più vecchi. Io gli ho detto, non vi preoccupate, questo qui praticamente può giocare anche con quelli più vecchi. Infatti venne su, faceva delle finte e metteva per terra. E il problema venne nel trasferirlo, perché giustamente soprattutto la mamma, era un po' titubante perché io gli avevo detto, li ritornavo indietro all'altro. E questi non ci volevano stare. Poi a un certo punto, dopo un paio di settimane di parlate, eccetera, riuscì a convincerle e il ragazzo che era su venne giù. E io portai Paolo Rossi e tra l'altro è stata anche un'avventura, quando la fortuna certe volte vuole baciare le persone, a me è capitato diverse volte, Paolo Rossi aveva dei problemi alle ginocchia. Mancavano tre menischi ed era una cosa abbastanza... E nessuno aveva fiducia in questo ragazzo. Al punto tale che io l'ho detti a Beltrami, praticamente gli ho detti un diritto di riscatto di 80 milioni di vecchie lire, però lui si guardò bene a riscattarlo. Dopodiché avvenne un po' un fatto straordinario, che è difficile anche da spiegare e irripetibile. Boni Perti durante una sessione di mercato mi dice guarda che Battista Fabri, allenatore del Vicenza, mi ha chiesto un giocatore e io vabbè glielo do. Siccome avevo preso nel frattempo gentile dal Varese di Guido Borghi, che era buon amico mio, e avevo superato la concorrenza di tante società, compreso il Torino, io dissi a Boni Perti no un momento, questo giocatore qua praticamente io lo do al Varese, perché me l'ha chiesto pure il Varese, quindi dia a Battista Fabri, che praticamente non può venire, non può andare all'enorso di Vicenza. Poi mi incontro Battista Fabri e mi fa, mi dice ma allora perché non mi voglio dare questo giocatore? Non ti voglio dare questo giocatore. Sono già in trattative con il Varese di Guido Borghi, che mi ha dato centina, quindi devo avere un po' di rispetto. Però gli dissi, facciamo una cosa, se tu, se io ti do questo ragazzo, tu mi devi prendere Paolo Rossi in prestito. E Battista Fabri, pur di prendere quel giocatore, mi prese Battista e mi prese Paolo Rossi in prestito, che tra l'altro nella prima parte del campionato non gioco mai, poi a fine del girone d'andata, e morì per un incidente stradale vitale il centroavanti del Vicenza, lui entrò in squadra e praticamente diventò Paolo Rossi. Ecco, questo qui, e questa è una cosa che praticamente mi riporta anche a un discorso di qualche allenatore, tipo Carlo Ancellotti, che sono emerse delle cose talmente strane che hanno portato magari dei giocatori, Paolo Rossi indubbiamente, perché aveva delle qualità enormi, Carlo Ancellotti perché io l'ho portato praticamente nelle migliori squadre, dove anche uno che sa allinare poco, allina bene. Lo portò lei alla Roma da Parma, Con tutto ciò praticamente, attenzione, Carlo Ancellotti c'ha delle qualità, non è che lo voglia criticare, però gli ho facilitato il compito. E certo. Diciamo, lo portò lei alla Roma? Io quando ero ai primi tempi, la recluta, era una recluta, praticamente presi dal Parma Carlo Ancellotti, con allenatore Lidlman. Poi Carlo Ancellotti si infortunò a Mila, ma io prima, praticamente ero stato pregato, proprio da lui e dalla famiglia, di trasferirlo a Milano, perché lui abita vicino a Milano, a Parma, e io lo trasferì a Milano, quindi il primo trasferimento l'ha avuto con me, è andato e ritorno. Dopodiché ha cominciato a fare l'allenatore nel Parma, e io me lo sono preso a fare l'allenatore alla Juventus. I tifosi ce l'avevano un po' perché no, il suo passato milanista, no? Sempre che ha fatto delle dichiarazioni a Parma poco simpatiche. E comunque, siamo andati avanti con Carlo Ancellotti, due anni, e direi abbastanza bene, perché con i due punti, una volta ha fatto 72, una volta 73, tenendo conto che si è imbattuto anche nel, diciamo, nel tornado del Curi di Perusa, dove arbitro Collina, interruppe per un'ora. Lui se l'aveva fatto ricrescere i capelli con l'acqua che era venuta, a noi aveva tolto praticamente uno scudetto perché abbiamo sostato 74 minuti stabilendo un record mondiale tra il primo e il secondo tempo, e lì probabilmente, anzi no, probabilmente ho sbagliato io perché dovevo prendere la squadra e ritirarla. Solo però io ho pensato a questa cosa qui, avrebbero parlato di arroganza, eccetera, ho preferito restare e purtroppo malmeno incolse perché abbiamo perso la partita 1-0, ma non solo, non contento di farci perdere la partita, il buon Collina ebbe anche l'idea strana di espellere Zambrotta che era scivolato in una pozzanghera, praticamente lì si sapeva solo notare perché altrimenti si poteva affogare, pensare che adesso praticamente non fanno giocare le partite sulle previsioni meteorologiche. Le faccio una domanda, ma se Moggi veramente era il capo, no, così hanno detto, di tutta questa organizzazione del calcio, avrebbe fatto sospendere la partita per Perugia, no? Si sarebbe rigiocata. Potevo portare tranquillamente via la squadra e si sarebbe rigiocata la partita per condizioni meteorologiche avverse. Il problema è che si è trasformata la stima della gente che aveva in me in potere e questo l'hanno fatto praticamente coloro che volevano destabilizzare l'ambiente. Per esempio quando in sede di Calciopoli il PM Narducci ha detto pensate che potere a Moggi le ha telefonato persino il ministro dell'interno Pisano e Narducci non sa o ha fatto finta di non sapere che il ministro dell'interno Pisano era nato praticamente a Monticiano era un sardo che stava a Monticiano e che addirittura ha sposato praticamente una ragazza di Monticiano del paese mio per cui io sono vissuto l'infanzia quindi gli davo del tuo adesso non so se lui non lo sapeva oppure ha fatto finta di non sapere ma l'ha trasformato in potere il potere nel calcio non esiste esiste la stima che poi la stima si chiami potere in altri discorsi certo tornando a Ancenotti ci fu quell'episodio di Perugia ma ci fu anche il cambio dei regolamenti in corso se non sbaglio l'anno prima a Roma c'era praticamente il giubileo che era durato due anni a Roma una volta con la Roma e una volta con la Roma e lì praticamente è stato l'ex direttore generale della Roma Gianni Petrucci che era diventato presidente del Coni e poi era diventato anche direi capo della federazione evidentemente ricordandosi dei trascorsi alla Roma nella settimana che precedeva la partita Roma-Juventus e Roma che poteva decidere il campionato ha ritenuto bene di far cambiare il regolamento in corso e far giocare in Agatà che non aveva mai giocato una partita e in Agatà guarda caso segnò un gol e fece fare il secondo per il pareggio e la Juventus per se il campionato a favore della Roma sono cose che capitano però ecco quando è ritornata da Ancellotti per dire certe volte che è un percorso fortunato io decido alla fine del secondo anno di non confermarlo però gli faccio un contratto di un anno perché mi dispiaceva secondo me aveva fatto molto bene mi dispiaceva praticamente tenerlo fermo senza stipendio anche perché avevo pensato che prima poi l'avrei sistemato tant'è che avevo preso l'accordo con il presidente del Gata Sarai e abbiamo fissato un appuntamento a Parma il giorno che lui è partito da casa sua per andare a Parma per andare a incontrare il presidente turco mi telefonano Berlusconi mi telefonano Berlusconi mi fa dire ma tu di Carlo Ancellotti che ne dici io le dici bravissimo e lui ha spiegato gli inconvenienti che aveva avuto con noi e anche perché non era molto ben visto dagli spettatori che a me mi interessavano poco dai tifosi però ho fatto per cambiare anche perché praticamente Lippi era venuto a cercarmi per riprenderlo quindi c'erano state delle cose abbastanza complesse e io decisi di riportare Lippi a Torino Berlusconi mi disse chiamo Ancellotti e dirgli che anziché andare a Parma venga a Milano e faccio il contratto e io chiamai Ancellotti e gli disse guarda che Berlusconi ti vorrebbe fare il contratto io non ho speso l'anno di contratto che avevo fatto ad Ancellotti però a lui ho creato una fortuna perché entrando nel meccanismo delle grandi squadre certe volte anche se uno non è molto capace però Ancellotti era capace poteva emergere lui l'uniche cose che ha fallito sono l'Everton e il Bayern Monaco e qui in Napoli potrebbe essere indicativo il fatto che non è stato aiutato dalle società che praticamente avevano interesse a fare dei risultati perché Ancellotti ecco una cosa di cui ha bisogno avere la certezza di avere vicino la società e l'apporto della società come per esempio quest'anno a Real Madrid è andato da Florentino Perez e Florentino Perez l'ha preso per un motivo perché aveva ricordi importanti con Carlo ma soprattutto perché spendeva poco e riteneva che fosse un anno di transizione perché aveva cambiato la squadra con i giovani invece hanno vinto tutto questo è il calcio io mi ricordo la prima volta che ci è andato come io con Florentino Perez ho stabilito un rapporto importante vado a vedere la finale di Coppa dei Campioni con l'Atletico e vado da Florentino Perez e gli faccio e gli dico come va Carlo? e gli dice va bene gli ho detto che però se non vincere la Coppa dei Campioni mi caccio via io mi sono un po' meravigliato poi vado a ritiro della squadra se è Carlo e gli dico ma col Presidente come va? no benissimo mi ha detto che se non vinco la Coppa dei Campioni mi caccia via e pensare che a due minuti dalla fine ne perdevo 1 a 0 finsegui la Coppa 2 a 1 quindi è un uomo anche fortunato oggi Mogi se dovesse consigliare un allenatore uno bravo che prenderebbe anche Mogi di quelli che ci sono in circolazione in Italia chi sceglierebbe? ma io sono di un parere mi dispiace doverlo dire stimoli allenatori però voglio avere familiarità con gli allenatori perché voglio dire la mia praticamente anche sul quindi mi sono sempre trovato nei confronti di persone e cose che ho scelto per avere libertà anche di esprimere il parere mio perché io credo che quattro occhi facciano meglio che due qui per esempio a Napoli l'ultimo anno ho preso un allenatore che non ha più allenato Bigogna e quell'allenatore ha vinto il campionato qui a Napoli quindi voglio dire è la dimostrazione che se un allenatore è aiutato dalla società prima di tutto acquisisce importanza nei confronti dello spogliatoio ed è una cosa veramente direi basilare e poi oltretutto si sente più sicuro nel fare le cose certo nelle sue squadre ci sono sempre stati grandi campioni di tutti quelli che ha avuto quello più difficile da gestire che è Maradona è scontato e questo e questo era praticamente l'albergo dove siamo adesso era quasi il luogo di residenza di Maradona perché lui amava il mare si affaceva alla fine sì esatto il problema di Maradona però lo conoscete tutti era un problema di una persona che quando stava bene era praticamente incredibilmente direi eccezionale perché aveva proprio la voglia di far bene al prossimo io lì ho visto fare delle cose con delle persone che avevano bisogno inenarrabili poi purtroppo c'aveva i momenti in cui era intrattabile e questo qui lo portava a essere praticamente a indispettirmi nonostante che io gli volessi bene perché era praticamente un ragazzo che si meritava tutto e per chi non l'ha conosciuto si può fare idee diverse io perché l'ho vissuto per quattro anni devo dire che mi è rimasta impressa una figura indelebile che è stata magari trasportata furviata dagli avvenimenti perché era nato povero trovarsi ricco praticamente può averlo trasformato proprio nella testa ma è veramente una persona squisita e magari in tanti non ci credono ma purtroppo no purtroppo meno male che era così che ha fatto una fine non tanto simpatica e questo mi dispiace io ho avuto anche degli attriti con lui perché lui era difficile da portare al campo ad allenarsi ma era difficile poi portarlo via quando fosse venuto di conseguenza ho avuto dei problemi abbastanza abbastanza difficili nella sua gestione faccio un esempio tipico quando abbiamo siamo andati a giocare in Coppa dei Campioni per le ottave di finale a Mosca giocavamo il mercoledì e noi partivamo la squadra il lunedì Maradona aveva detto tutta la settimana datemi un DVD perché voglio vedere un film da Napoli a Mosca che è un viaggio di tre ore eccetera era tutto pronto però il lunedì non era pronto lui perché siamo arrivati in aeroporto e mancava Maradona io sono andato solitamente mandavo il medico dottor Bianciardi sono andato io personalmente a casa sua per dire a Claudia la moglie e a Coppola al procuratore per dire che se fossero arrivati il martedì Maradona non giocava la partita infatti infatti il martedì sera arrivò a Maradona io feci mangiare la squadra con lui con tutti quanti poi chiamai il presidente Ferlaino e tutta la squadra a Maradona a Maradona allora la mia può essere può essere stata una scelta coraggiosa però era un qualcosa per invogliare anche Diego a tornare a fare qualche passo indietro rispetto a quello che faceva ma lui non poteva era era proprio soggetto a crisi per cui era difficile e di conseguenza io ho preso una decisione irremovibile di andarmene devo dire che quell'anno che me ne andai lui fu sotteggiato al doping qualche settimana dopo e risultò positivo e quindi finì insomma era Maradona dopo dopo poi dovette andare via è finita la favola di un giocatore che secondo me è stato il migliore del mondo assolutamente io non ho mai trovato un giocatore che era più forte atleticamente che tecnicamente pensare quello che era tecnicamente faceva sbattere gli avversari tra di loro e ci passava in mezzo era una cosa veramente è difficile da descrivere infatti quando sento io che fanno un paragone con me se mi vede a ridere certo un giocatore Grazie a tutti.